Sarà anche un pomeriggio all'insegna della nostalgia, quella del ritorno del Palermo al Renzo Barbera. L'ultima gara interna, prima del lockdown, era stata nello scorso marzo, quando una tripletta di Floriano demolì il Nola. Dopo quel 4-0 si torna in Viale del Fante per la gara contro l'Avellino. Domani si tratterà dell'esordio casalingo in Serie C per il Rosanero, dopo che la gara con Potenza è stata rinviata al 29 ottobre. Nuovi problemi di formazione intanto per il tecnico Roberto Boscaia, che dopo il pari di Terni sembra orientato a riproporre la difesa a tre. Saranno assenti Corrado, Crivello e Palazzi. In avanti Rauti sembra in vantaggio per una maglia da titolare. Continuano a scalpitare Silipo, Canutè e Lucca. Turno di riposo per il Catania, dopo l'ottimo successo targato Tonucci ai danni della Juve Stabia. In calendario sarebbe stato fissato per domani il derby col Trapani. I tifosi etnei esultano ugualmente per l'acquisto dell'attaccante Antonio Piccolo, pedina d'esperienza per il tecnico Giuseppe Raffaele. Per l'ex cremonese è stato siglato un contratto biennale.